blairot era un amico d'infanzia il compagno più caro nessun segreto tra noi ci legava un'amicizia profonda dei cuori e delle menti un'intimità una fiducia assoluta l'uno nell'altro mi confidava ogni più delicato pensiero perfino quei piccoli scrupoli di coscienza che osiamo a malapena confessare a noi stessi io facevo altrettanto con lui ero stato il confidente di tutti i suoi amori gli avevo confidato i miei ci consolavamo insieme ci abbracciavamo quando mi annunciò che stava per sposarsi ne fui ferito come da un vero tradimento sentì che era finito quell'affetto che ci univa così intenso e assoluto c'era tra noi sua moglie l'intimità del letto stabilisce tra due esseri anche quando hanno cessato di amarsi una specie di complicità un'alleanza misteriosa il marito e la moglie sono come due soci discreti che non si fidano di nessuno ma quel legame che il bacio coniugale annoda così stretto si scioglie all'improvviso il giorno che la moglie ha un amante mi ricordo come fosse ieri la cerimonia del matrimonio di blairò non avendo gran simpatia per questo genere di avvenimenti non voglio assistere al contratto di nozze mi recai solo in municipio e in chiesa la moglie che non conoscevo affatto era una ragazza alta e bionda piuttosto sottile e graziosa con gli occhi pallidi capelli pallidi colorito pallido mani pallide camminava con un lieve movimento ondulato come se la portasse una barca venendo avanti sembrava fare una serie di lunghe riverenze aggraziate blairò ne pareva molto innamorato ne guardava di continuo sentivo fremere in lui un desiderio esagerato di quella donna dopo qualche giorno andai a trovarlo mi disse non immagini come sono felice l'amo pazzamente nel resto lei è lei è non finì la frase ma posandoci due dita sulle labbra fece un gesto che significa divina squisita perfetta e molte altre cose non mi andai ridendo a tal punto rispose tutto quello che puoi sognare mi presentò fu incantevole familiare quanto occorre disse che la loro casa era la mia ma sentì che non era più mio lui blairò la nostra intimità aveva subito un taglionetto trovammo astento qualche cosa da dirci me ne andai poi feci un viaggio all'oriente ritornai attraverso la russia la germania la svezia l'olanda non rimisi piede a parigi che dopo 18 mesi di assenza il giorno dopo il mio arrivo mentre girellavo sul boulevard per respirare di nuovo l'aria di parigi vedi venire verso di me un uomo pallidissimo dalle guance incavate che somigliava a blerò quanto un tisico scarno può somigliare a un ragazzone colorito e un po' grasso lo guardavo sorpreso inquieto domandandomi ma è proprio lui quando egli nel vedermi lanciò un grido tendendomi le braccia spalancai le mie e ci abbracciammo in mezzo alla strada dopo essere andati più volte su e giù da qui tu vuoi al teatro del vaudeville mentre stavo per separarmi da lui che mi sembrava già stanco morto per quei quattro passi mi venne fatto di dirgli non hai l'aria di sentirti bene sei malato? rispose sì un po' indisposto aveva l'aspetto di un uomo che sta per morire e un'ondata di affetto mi salì dal cuore per quel vecchio amico tanto amato il solo che io abbia mai avuto gli strinsi forte le mani ma che cos'hai? stai male? no un po' di stanchezza non è niente che dice il medico? parla di anemia e mi ordina ferro e carne rossa un sospetto mi attraversò la mente domandai sei felice? sì felicissimo completamente felice completamente tua moglie? meravigliosa l'amo più che mai mi accorsi che si era fatto rosso e che sembrava imbarazzato come temesse altre domande lo presi per il braccio lo spinsi in un caffè vicino vuoto a quell'ora e con gli occhi negli occhi coraggio vecchio René dimmi la verità balbettò ma non ho niente da dirti ripresi con voce ferma non è vero sei ammalato ammalato moralmente senza dubbio e non osi dire il tuo segreto a nessuno c'è qualche cosa che ti rode ma a me lo dirai su spiegati arrossi nuovamente poi balbettò voltando la testa da un'altra parte sarà una cosa stupida ma sono sono spacciato poiché taceva insistiti su parla parla con me allora disse vivacemente quasi buttasse fuori un respiro torturante ancora inconfessato ebbene ho una moglie che mi uccida ecco non capivo ti rendai infelice? ti fa soffrire giorno e notte? ma come? in che cosa? mormorò con voce sommessa come se avessi confessato un delitto no faccio troppo all'amore di fronte a quella confessione brutale rimasi interdetto poi fui preso da una voglia di ridere e infine rispondere mi sembra che potresti che potresti amarla meno si era fatto pallidissimo finalmente si decise a parlarmi a cuore aperto come una volta no non posso e sto morendo lo so sto morendo mi uccido e ho paura in certi giorni come oggi ho voglia di piantarla di andarmene per sempre in capo al mondo per vivere per vivere a lungo poi quando viene la sera torno a casa pur contro voglia ad agio ad agio con un tormento nel cuore salgo la scala lentamente suono lei è lì seduta in poltrona mi dice quanto hai tardato le bacio poi ci mettiamo a tavola durante il pasto penso continuamente dopo aver pranzato uscirò e prenderò il primo treno che mi capita ma quando torniamo in salotto mi sento così stanco che non ho più il coraggio di alzarmi rimango e poi e poi ti casco sempre non potrei impedirmi di sorridere ancora però se ne accorse e riprese tu ridi ma ti assicuro che è una cosa orribile perché non avverti tua moglie domandai a meno che non sia un mostro comprenderà si strinse nelle spalle da questo lo dici tu se non l'avverto è perché conosco la sua natura hai mai sentito dire a proposito di certe donne questo è il suo terzo marito sì è vero gli avrai sorriso come poc'anzi eppure è così che farci non è colpa sua né mia lei è così perché l'ha fatta così la natura ha una sensualità da messalina non lo sa lei ma io lo so benissimo peggio per me è deliziosa tenera affettuosa trova naturali e moderate le nostre folli carezze che mi esauriscono che mi uccidono sembra una collegiale ignara ed è veramente ignara povera piccina tutti i giorni prendo qualche risoluzione energica perché vedi bene che muoio ma basta uno sguardo dei suoi occhi uno di quegli sguardi nei quali leggo il desiderio ardente delle sue labbra e soccombo subito dicendo tra me è l'ultima volta non voglio più saperne di questi baci mortali e poi quando ho ceduto nuovamente come oggi esco e cammino senza meta pensando alla morte dicendomi che sono spacciato che è finita ho la mente così turbata così malata che ieri sono andato al Perlachaise guardavo tutte quelle tombe allineate come pedine di domino e pensavo presto sarò qui sono tornato a casa decisissimo a fingermi ammalato a evitarla non ho potuto tu non sai domanda a un fumatore avvelenato dalla nicotina se può rinunciare alla sua abitudine deliziosa e mortale ti dirà che ha provato cento volte senza riuscire e soggiungerà tanto peggio preferisco morire io sono così quando si è presi nell'ingranaggio di una passione o di un vizio simile bisogna lasciarsi andare sino alla fine si alzò mi tese la mano mi invadeva una collera tumultuosa una collera astiosa contro quella donna contro la donna questo essere incosciente affascinante terribile però s'abbottonava il soprabito per andarsene gli gridai brutalmente in faccia ma per dio piuttosto che lasciarti ammazzare così trovale un amante fece nuovamente spallucce senza rispondere e si allontanò passarono sei mesi senza che lo vedessi aspettavo tutte le mattine di rivedere una partecipazione che mi invitasse al suo funerale ma non volevo mettere piede in casa sua obbedendo a un sentimento complicato misto di sprezzo per quella donna e di collera di indignazione di mille sensazioni diverse per lui in un bel giorno di primavera facevo una passeggiata agli Champs-Élysées era uno di quei pomeriggi tiepidi che rimuovono in noi gioie segrete che ci accendono lo sguardo e ci riempiono di una tumultuosa gioia di vivere sentì battermi su una spalla mi voltai era blairò imponente florido roseo grasso panciutello mi tese ambo le mani raggiante di piacere gridando eccolo qui quello che dimentica gli amici lo guardavo paralizzato dalla sorpresa già già caspita ti faccio i miei complimenti sei mesi fa tu stai benone ora divenne scarlato e riprese con un riso forzato si fa quel che si può lo guardavo con un'insistenza che lo imbarazzava visibilmente dissi così sei hai guarito balbettò in fretta sì perfettamente grazie poi cambiando tono che fortuna averti incontrato vecchio mio adesso ci vedremo spesso vero non mollavo la mia idea volevo sapere domandai dicevo ti ricordi la confidenza che mi hai fatto sei mesi fa così adesso resisti rispose esitando facciamo conto che non t'abbia detto nulla e parliamo d'altro ma sai t'ho ritrovato e ti tengo vieni a pranzo a casa mia fui subito assalito da una voglia irresistibile di vedere quella sua casa di comprendere accettai due ore dopo varcavo la sua soglia sua moglie mi fece un'accoglienza simpaticissima aveva modi semplici adorabilmente ingenui e distinti un vero incanto per gli occhi le lunghe mani le gote il collo erano di una bianchezza e di una finezza squisita era una carne fine e nobile carne di razza e camminava ancora con un lungo ondeggiare da gondola come se ogni gamba a ogni passo si flettesse lievemente René la baciò in fronte fraternamente chiedendo non è ancora venuto Lucien? rispose con voce chiara leggera no non ancora carissimo lo sai che è sempre un po' in ritardo squillò il campanello apparve un pezzo di giovanottone molto bruno con le guance villose e l'aspetto di un ercole mondano si presentarono si chiamava Lucien de la barre René e lui si strinsero la mano energicamente poi ci mettemmo a tavola fu un pranzo delizioso allegrissimo René non cessava di parlarmi cordialmente francamente come un tempo era un continuo sai vecchio mio dimmi un po' vecchio senti vecchio poi esclamava ad un tratto non ti immagini che piacere mi fa ritrovarti mi sembra di rinascere io tenevo d'occhio la moglie e l'altro apparivano perfettamente corretti mi sembrò tuttavia che una volta o due si scambiassero un'occhiata rapida e furtiva appena finito il pranzo René rivolto a sua moglie dichiarò cara amica ho ritrovato Pierre e me lo porto via andiamo a chiacchierare come una volta su e giù per i nostri viali si perdonerai questa scappata da scapoli ti lascio del resto Lucien la signora sorrise mi disse correndovi la mano non lo trattenete troppo a lungo ed eccoci a brazzetto per la strada allora smanioso di sapere a tutti i costi via cos'è successo dimmi ma si interruppe bruscamente col tono imbronciato di un uomo tranquillo che viene infastidito senza ragione rispose insomma vecchio mio lasciami un po' in pace con le tue domande soggiunse poi a mezza voce quasi parlando a se stesso con l'aria convinta di chi ha preso una soluzione saggia era troppo stupido crepare così dopo tutto non insistei camminando svelti prendemmo a chiacchierare e lui d'un tratto mi sussurrò all'orecchio di se andassimo a trovare qualche donnina hai voglia tu mi mise a ridere di cuore cosa vuoi andiamo vecchio mio Grazie a tutti.